Dopo due anni sono tornate Ruspe e Gru sulla banchina e sono ripresi i lavori sul terreno dell'ex consorzio del porto di Pesaro dove è prevista l'edificazione di due torri residenziali da circa 70 appartamenti. O meglio, lo era prevista fin da uno che è arrivato ormai un lustro fa che nel corso di questi cinque anni ha visto prima la demolizione del rudere del consorzio poi il via ad una edificazione bloccatasi dopo pochi mesi per un controverso cortocircuito normativo che di fatto ha coinvolto Comune di Pesaro, Capitaneria di Porto, la Società Nova Portum e naturalmente la Procura del Tribunale di Pesaro. Un cortocircuito derivato dalla presunta incompatibilità a edificare costruzioni residenziali in area portuale. Un mese fa è stato definitivamente sgombrato ogni ostacolo al cantiere con la soluzione dell'accusa di abuso edilizio di tutti e tre gli imputati della Società Nova Portum responsabili del progetto e puntuali camion e operai sono tornati in azione per una costruzione destinata a cambiare il volto del porto attraverso due palazzine che saranno completate a fine 2025.